Buon dia da Playa de las Americas, buon dia da Tenerife e bene cari amici di Holistic Workout, sto partendo per Catania, c'è il corso primo livello però oggi mi godo l'ultima giornata di lavoro e di sole è arrivato un mio amico un mio amico che è un creatore di immagini per Tenerife, è un personaggio, lo conoscono tutti è un regista, ha un salone holistico, parrucchiere, corsi per parrucchiere però ve lo presenta, ha un problema solo, litiga con la lingua inglese il mio lavoro si chiama per esempio Holistic Worldwide dovrebbe essere una cosa leggera, poi ce lo facciamo dire da lui per cui ve lo presento perché parlavamo di un attore e io non mi ricordavo come si chiamava eccolo, è la Pren Pit, eccolo la Pren Pit la nuova moda di Tenerife è storpiare le parole no questa è la moda tua, la mia moda è la moda per Callori de Tenerife ecco, questo è il Callori de Tenerife e da Cristiano Rollo di Holistic Workout, stavolta l'ho detto bene ragazzi è la prima volta, vi giuro, anche se è arrivato la cappa comunque Workout, più o meno è un workout toscano Workout, ora ora ora, il workout, ora ora ci vediamo, ciao ciao, ciao bene, ciao azione, azione, pet pit, pet pit, pet, pet, azione asia, ciao 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 Grazie.